luigi 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 no 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 per favore non mi sparare no non ti volevo sparare ok allora mi vuoi accoltellare no neanche accoltellare ah quindi non mi vuoi fare niente ti volevo schiacciare luigi vuoi dare un trucco di magia quale trucco di magia questo porca di ragazzi oggi faccio un tutorial su come rimontare luigi allora prendiamo questo poi lo attacchiamo quest'altro pezzo credo questo che cazzo di parte del colpo è credo che sia il culo no il culo è questo questo è il culo assieme a un'altra parte del colpo molto delicata togliamo l'arma del delitto poi allora braccio riattacchiamoli facciamo così guardate ok abbiamo riattaccato il braccio adesso riattacchiamo pure quell'altro allora ce l'ha in testa ce l'ha nell'orecchio il braccio perché vabbè vabbè il braccio sta là dietro quindi non si vede adesso le gambe allora le gambe è semplice una qua e l'altra gamba l'altra gamba la mettiamo eccola qua minchia un ventilatore e ragazzi abbiamo rimontato luigi luigi come stai una chiave perfetto allora stai benissimo smetti di muovere la gamba ma non la controllo e controllala qui ci piace questo robot da dove l'hai preso me l'ha regalato giovanni fa tutto quello che gli dico uccidi roberto mi dispiace ma non posso uccidere il mio proprietario ah volevi dai un pugno a luigi ma che cosa oh cazzo porca miseria aia minchia le mie articolazioni dagli un calcio in bocca subito no no fa il buono fa il buono fa il buono adesso adesso finiscilo ok no spero bravo dopo di te croccantino va bene però lo voglio meccanico questo video è stato troppo breve perché già è finito ah già è finito e prima di finirlo volevo fare questo che cosa oh i miei occhi volevo fare pure questo è stato divertente dai non è stato divertente quindi questo che cazzo è sta cosa oddio luigi questo qui è un mio amico si chiama giusualdo il robot no in realtà stanno due peppe là sopra questo video deve finire con esplosione robot autodistruggiti no 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 Grazie a tutti